Loro sono i ragazzi di Game of Thrones Cosplay e interpretano, ok sono tanti quindi con calma, Daenerys, Tyrion, Immacolato, 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 Verme Grigio, Saggio Padrone, Saggio Padrone, Dario, Figlia dell'Arpia, Hizdar, Zolorak, Schiava di Yunkai, Schiava di Yunkai, Schiava di Yunkai. Avete mai sentito il canto di un cucciolo di drago? Il cinismo diventa un ricordo. Daenerys Targaryen è una donna argogliosa e forte e feroce. Astapor, Yunkai e Mirin ne sono la prova sufficiente. L'ha conquistata una ad una, ha calpestato le città degli schiavisti e le ha ridotte in polvere. Ad Astapor, gli schiavi hanno combattuto per lei da uomini liberi. L'hanno chiamata Nisa e l'hanno riconosciuta come sovrana. L'hanno chiamata Nisa e l'hanno riconosciuta come sovrana. Mirin non è stata facile. L'ha presa e visse fermata per imparare a governare. Ma i figli dell'Arpia tramavano nell'ombra e hanno messo a dura prova le sue doti in regina. Gli ex schiavi e gli ex padroni non hanno nulla in comune. Nulla salvo secoli di diffidenza e risentimento. Lei è la nostra migliore e unica occasione per distruggere la ruota. E io sarò il suo fianco. Il mio regno è appena cominciato. E qui voglio tutta Graziano!